Bentornati sul canale del Dalle, oggi siamo qui per la versione di Amsterdam, un nuovo film di David Russell, la trama qual è? Nel 1933 a New York due amici di nome Bert e Harold, rispettivamente un medico e un avvocato, sono testimoni di un omicidio di cui vengono ingiustamente incolpati e, grazie a Valerie, una loro grande amica tenteranno di far cadere le accuse su di loro e si adopereranno per scoprire uno dei più scioccanti complotti della storia americana. David Russell, regista del lato positivo, Joy, American Assault, dirige un film stilisticamente particolare perché ha una buona ricostruzione dell'ambientazione dell'epoca tra usi e costumi, sia ambientazione in generale, ma anche usi e costumi, il fatto del medico per i veterani, il discorso della prima guerra mondiale, le sperimentazioni sulle medicine, il tipo di medicine che venivano fatte, il fatto delle ricostruzioni facciali anche dell'epoca, lo capirete. Tutte queste cose sono avvolte da una sceneggiatura che trova, secondo me, un bel mix tra storia inventata e fatti realmente caduti. Il fatto del generale Jill Dillenbeck è veramente accaduto, di cosa parla la trama è veramente accaduto, poi i personaggi di Robert Harrod, Valerie, quelli lì la storia è inventata, però questo mix funziona unito anche a un cast che lavora bene su tutti, direi, Christian Bale e Robert De Niro, che sono i personaggi che mi sono piaciuti, le interpretazioni che mi sono piaciute di più, cast ricchissimo, da Christian Bale, John David Washington, Margot Robbie, Robert De Niro, Remy Malek, Anya Taylor-Joy, Zosaldana, Chris Rock, Michael Shannon, Mike Myers, Andrea Weisberg, Taylor Swift, cioè un cast megatomico, però, a rovescio della medaglia, Christian Bale e Robert De Niro sono gli unici due personaggi slash attori che mi sono piaciuti, che mi sembravano interessanti. Un film che secondo me sprecca il suo cast, perché ogni personaggio praticamente potrà fare una scena dove potrà vincere un Oscar, e invece sono tutti molto comprimari, anche perché dopo vedevo una cosa, ma ve la devo dire nella parte con spoiler, sul discorso dei protagonisti del film, però i personaggi sono molto comprimari per questo problema qua che dopo vi dirò, e nessuno, non c'è nessun personaggio veramente interessante, l'unico appunto personaggio interessante e interpretazione veramente valida è Robert De Niro. Christian Bale ha un'interpretazione molto valida, anzi forse la migliore interpretazione di tutto il film, ma il suo personaggio ad un certo punto dici, ma quindi questo personaggio qua cosa deve fare nel film? Cioè, qual è il suo ruolo finale del film? Boh. Ma il problema più grande di Amsterdam, di David Russell, è che a film finito, cioè a titoli di coda, il film è dimenticabile. Cioè, io l'ho visto, fine. Non lo rivedrò, non ho voglia di rivederlo, non mi interessa rivederlo. È un film che manca tanto di ritmo, soprattutto nella prima parte, nella prima parte è veramente lunga, perché soprattutto di che cosa deve parlare il film? Il film dura due ore e quattordici, la trama, secondo me, in un'ora e cinquanta della Cavavi. Perché secondo me il film, nonostante il mix tra inventato e reale funziona, il film, secondo me, sbaglia il metodo di narrazione. Anche perché un altro problema del film è che il film ha confusione tra qual è il titolo del film, chi sono i tre protagonisti che il film ti propone e quelli di tutta la prima parte, ma queste due cose cozzano molto di che cosa parla il film. Perché alla fine della fiera i protagonisti sono Burt, Aro e De Valery. Sicuro? Sicuri? A fin finito sono loro i protagonisti. Parla di loro la storia. E infatti tutto questo sposta la prima parte e la seconda parte, sposta l'attenzione da una prima parte alla seconda parte su altri temi, su altri protagonisti. Sinceramente sul finale io sono rimasto deluso, non è che sono andato a vedere, che non so, tipo Morbius, so che vado a vedere un film nella minchia e vabbè, mi arrendo. Qua invece avevo altissime aspettative e sul finale, tra la prima parte e la seconda parte, sono rimasto molto deluso. Ma io vi direi che andiamo già con la parte con spoiler. 3, 2, 1... Secondo me, alla fine del film, il protagonista è Robert De Niro, non è Christian Bale, John L.D. Washington e Margot Robbie. Perché alla fine il film parla delle industrie americane che complottano per creare il dittatore americano. Invece a morte la democrazia, a morte tutto quello che volete, a morte la Casa Bianca, a morte i presidenti degli Stati Uniti, come si dice, in stile Hitler, in stile Mussolini, il primo dittatore americano che era il generale Jill Dillenbeck, che doveva essere il generale Jill Dillenbeck, interpretato da Robert De Niro. Quindi, secondo me, questo film è visto sostanzialmente con gli occhi di Bert, Harold e Valerie, rispettivamente di Christian Bale, John David Washington e Margot Robbie. Però, secondo me, questo film dovrebbe essere visto con gli occhi di Robert De Niro. Cioè, dovrebbe essere lui il vero protagonista. in questo caso qua, ovviamente, questo film è un drammatico commedia, in questo caso, questo film sarebbe diventato un biopic, un film storico. Invece, questo film è un drammatico commedia, David Russell ha deciso di usare questo stile per questo film qua. Personalmente, avrei preferito un film storico, un film che parlasse veramente di questa cosa qua, perché la prima parte non parla di questa cosa qua, ma, zero, parla del fatto che Bert e Harold sono indagati come per l'omicidio del personaggio di Taylor Swift, che in realtà non è vero, e di questa cosa, delle cinque, delle cinque punte lì, del numero cinque, questa fazione di cinque persone, che alla fine sono cinque industrie, che appunto costruiscono. Cioè, la prima parte serve del discorso delle industrie, che dopo capisci che queste industrie vogliono, parlano del, vogliono questo Jill Dillemme come primo dittatore americano. Però, alla fine, Bert e Harold e Valerie, chi se ne frega, cioè, alla fine del film, la loro storia, considerando di cosa parla il film, non è molto, non c'entra tanto, cioè, c'entra, anche perché il film si chiama Amsterdam, ma Amsterdam è il luogo dove si incontrano Bert, Harold e Valerie, che alla fine è questa grande amicizia che percorre tutto il film, ma alla fine, ripeto, il film non parla di loro, il film parla di quelle industrie del primo dittatore americano. Poi, per carità, è un film che ha diverse metafore, diverse belle metafore, diversi bei dialoghi, ne prendo due così, la metafora del cuculo, dell'uccello che distrugge il nido e quindi l'America, l'America che distrugge l'America per creare nuove, qui, bello, ok, mi piace, bello il dialogo di Valerie, quando parla che il brutto riferito alla guerra tornerà, torna sempre, infatti, questa cosa, verrà detta nel 1918, tornerà alla seconda guerra mondiale. Ok, per la cattiveria dell'uomo che l'uomo vuole sempre il male, va benissimo, però, il tutto viene fatto a un ritmo troppo lento per portare il film a un'inspiegabile due ore e quattordici di durata che, ripeto, in un'ora e cinquanta te la giocavi bene o, cambiando il punto di vista, passando con Robert De Niro, protagonista, che, sinceramente, durante il film mi sono immaginato un what if, se questo film avesse avuto Robert De Niro come unico protagonista e con questo personaggio qua, probabilmente, tra quattro mesi era candidato a Oscar, visto che è Robert De Niro, però, non, veramente, ho trovato difficile da capire la scelta dell'impostazione di questo film qua, tra il titolo, i protagonisti, il vero protagonista del film e il film all'effettivo finale, qual è il prodotto finale. Una cosa che ho trovato in questo film qua è la grande presenza di scene con i protagonisti che guardano in camera. Non è che abbattono la quarta parete in stile She-Hulk, Deadpool, quella roba lì, ma quasi, perché in alcune scene il protagonista è la soggettiva con i scopi sulla camera, quindi io sono così, voi siete quelli che guardano e quindi questo è il dialogo, no? Ma altre volte, tipo, su tutte quelle che ho notato di più è quando Christian Bale, Harold, scusate, Bert, chiude una porta e dice siate ottimisti guardando in camera, al plurale come se ti stesse guardando agli spettatori. Ma succede anche nella scena finale quando Harold e Valerie vanno via in nave, tornano ad Amsterdam, Bert rimane lì, che c'è uno scambio di dialoghi che si parla veramente a un spettatore. Non è un film che abbatta la quarta parete, ma la terza e mezzo, diciamo. Questa cosa in alcune, è una cosa che mi è piaciuta, soprattutto in alcuni dialoghi che sembrava molto interessante questo scambio di vedute. Io, però, non mi sento di avere altro da dire. Allora, il mio voto è 5 e mezzo, pensavo, vi giuro, di vedere un film che andava agli Oscar, invece non ci andrà sotto nessuna categoria, cioè magari costumi, io affino, ma costumi sì, neanche. È un film hollywoodiano che va contro il fascismo perché ovviamente tra contro Mussolini, Hitler, va ovviamente contro il fascismo, annulla il fascismo, quindi un ideale che comunque ci sta, però come prodotto non lo ritengo per me sufficiente sotto i punti di vista che io vi ho detto. Io non ho altro da dire, scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo film, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, pagina Facebook, profilo Instagram, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace e attivate la campanella delle notifiche, ci vediamo alla prossima puntata con il Dalle che andrà ad Amsterdam da 421 e di lì. e di lì. We got, we got, we got the power We got, we got, we got the power We got the power